Grazie a Alessio Candi per questi dati. Iniziamo quindi a questo punto la serie delle interviste. Chiamo sul palco Giovanni Del Vecchio, CEO di Giorgetti. Abbiamo un video. Giorgetti non sta cambiando, secondo me Giorgetti sta evolvendo, cercando di interpretare sempre meglio quelle che sono le tendenze più attuali del modo di abitare gli spazi, privati o comuni. Quindi in questo Giorgetti sta cercando di intercettare gli stimoli che ci arrivano da queste opportunità e di portare alcune idee o magari alcuni materiali o magari alcune tecniche produttive che un progetto contract ci ha stimolato a sviluppare all'interno della collezione residenziale. È evidente che noi abbiamo una nostra idea di design che cerchiamo di portare come filo conduttore nelle nostre collezioni, ma è anche evidente che la possibilità unica che Giorgetti ti dà di lavorare su personalizzazioni che vanno ben oltre la semplice scelta di un materiale o di un colore di finitura, ci dà la possibilità di arrivare a latitudini diverse con interpretazioni completamente diverse del nostro prodotto. Abbiamo già finito l'intervista. Hai visto? Posso andare, infatti è stata studiata doc. Allora... Però vorrei stare un po' qui su queste poltroncine che sono comodissime, onestamente. Abbiamo fatto un cambio in corso. Poi ieri qualcuno parlava di uomini grigi, io guardo chi parlava. Io oggi sono un uomo in grigio, ma perlomeno spero che il rosso mi dia quel tocco di colore che aiuta a intrattenere. Senti Giovanni, tu sei il primo a parlare e quindi segui l'intervento di Alessio sui dati. Ti ritrovi su questo trend di mercato in forte crescita? Come vivete voi in Giorgetti questo momento? No, sono dati credo abbastanza comuni. Stiamo tutti sperimentando un momento, un primo semestre molto positivo. Sono soprattutto corretti nella interpretazione sulla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e sull'aumento dei costi. Ormai compriamo materiali che ci vengono quotati solo quando vengono effettivamente consegnati. Abbiamo difficoltà a riprire qualunque cosa. Ci sono materiali poveri che sono diventati costosi quanto i masselli di legni a più pregiati. È un momento in cui evidentemente non ci vogliamo far mancare niente. Dopo la pandemia e le problematiche che abbiamo avuto oggi però godiamo se non altro di una prospettiva sicuramente molto positiva nel mondo del residenziale, sul mondo del contrat che noi ovviamente frequentiamo abbastanza da vicino con un'altra delle nostre società che battaglia. devo dire che si nota sicuramente una ripresa è comunque ancora un po' più lenta rispetto a quella che si vede nel mondo residenziale. C'è molta difficoltà ad avere la decisione finale e l'approvazione finale di quotazioni o di progetti che sono in corso un po' da tempo. Parlando sempre di materie prime, mi avevi accennato quando siamo visti a Defic. Qual è la causa secondo te di questo aumento dei prezzi? È semplicemente un aumento della domanda o ci sono altri aspetti visto che è un momento particolare? Allora innanzitutto quando ci siamo visti ti ho detto non mi fare questa domanda me la fai subito come seconda. Ci sono sicuramente cause scatenanti molto diverse. alcune più facili da raccontare altre un po' più delicate quindi magari in questo momento in un contesto così pubblico meglio sorvolare. Diciamo che a livello di federazione e a livello di Efic che è l'associazione che raccoglie tutte le federazioni europee è un tema che noi stiamo cercando di affrontare da novembre quando le primi segnali di incremento dei poliuretani sono apparsi all'orizzonte. Credo che sia un fenomeno diverso causato da più cause. Sicuramente nel 2020 tutti hanno ridotto le proprie scorte anche chi produceva materie prime di base e quindi si è trovato alla fine dell'anno con delle scorte molto basse a cui sono seguite degli ordini molto veloci e molto forti perché come abbiamo visto nei dati prima c'è una crescita che è esponenziale anche nelle vendite e quindi di nuovo la richiesta di approvvigionare materia prima rapidamente e con alcuni mercati che sono partiti inevitabilmente prima cioè la Cina la citiamo spesso quasi sempre con ragioni corrette la Cina è ripartita molto prima ha cominciato ad approvvigionarsi di materiali sui mercati internazionali molto prima dell'Europa e ha dato un segnale di crescita della domanda e quindi del prezzo estremamente forte poi magari ci sono anche altri motivi di opportunismo e di opportunità che sono quelli che sicuramente aiuteranno poi a un calo nel periodo successivo chiarissimo sempre dai dati di prima si parla di e-commerce che è questo settore a cui questo settore si è avvicinato in tempi molto più recenti rispetto ad altri mondi per motivi diversi qual è la vostra visione su questo aspetto anche se voi avete dei prodotti molto specifici ma guarda io ho lavorato tanti anni prima di lavorare in questo settore nel mondo della moda purtroppo ho una certa età ormai e mi ricordo di quando all'interno del mondo della moda si diceva figuriamoci se una signora si comprerà mai un paio di scarpe sul sito e-commerce le scarpe vanno provate bisogna sentirle la borsa vogliamo mettere l'approccio di entrare in un negozio la soddisfazione e la gratificazione ormai oggi quel mondo viaggia prevalentemente non solo ma insomma in maniera consistente sull'e-commerce quindi credo che la difficoltà di un settore sia semplicemente la scusa per non affrontare un problema ci sono nel nostro mondo non solo i casi che ha citato io guardo tutte le volte Sonoma Wayfair con una sorpresa ogni anno con numeri incredibili stiamo parlando di puri canali e-commerce non c'è un negozio fisico non c'è modo di toccare un tessuto penso ai nostri rivenditori che spesso ci fanno venire il mal di testa perché rimangono senza il campione bisogna correre giustamente perché hanno evidentemente ragione ma evidentemente c'è anche modo di fare business in un'altra maniera credo che le aziende debbano seguire questa traiettoria essere bravi ad evolvere io parlo spesso di evoluzione non solo quando parlo di Giorgetti ci sono degli esempi in questa sala a cominciare da Mod che così faccio un po' di pubblicità alla casa che dimostrano che il lavoro si può fare si può fare molto bene è una sfida per tutti non c'è un limite su questo settore secondo me grazie invece una cosa che mi ha sempre colpito di Giorgetti che è un parliamo di stile in questo caso cambiamo argomento è molto legato alla cifra stilistica di Giorgetti è legato anche al fatto che sempre di più le aziende oggi hanno un art director un po' anche qui non ti dico mutuando dalla moda ma è un concetto abbastanza nuovo almeno nel fatto di essere formalizzato all'esterno voi su questo aspetto avete sempre avuto una vostra identità precisa mi vuoi raccontare come è nato come è nato questo stile Giorgetti sì dicevo nel video noi abbiamo la nostra idea di design è un'idea che nasce quando parliamo di Giorgetti parliamo di un'azienda che ha 123 anni che per 65 anni è stata guidata da una persona un imprenditore illuminato che era Carlo Giorgetti che evidentemente ha dato un'impronta molto forte del suo gusto personale all'interno del design della propria azienda ed è un'impronta talmente forte che per noi che abbiamo la fortuna di collaborare con colleghi che sono da tantissimi anni in azienda è ormai permeata all'interno di ogni spazio dell'azienda si apre una porta e non c'è bisogno di sapere che cosa ci sarà dall'altro lato e questo aiuta tantissimo abbiamo poi la fortuna di aver costruito nel tempo prima con Carlo Giorgetti poi credo anche negli ultimi sei anni insomma di gestione di Giovanni Del Vecchio dei rapporti con un numero molto ridotto di architetti più che di designer perché noi abbiamo la fortuna di lavorare più con architetti non voglio mancare di rispetto a nessuno ma evidentemente lavorando sull'architettura diventa un linguaggio più facile pochi architetti con i quali collaboriamo da tantissimi anni quindi che hanno avuto e questo credo sia giusto dargliene merito l'umiltà di affrontare il progetto all'interno di Giorgetti non con la loro mano ma mettendo la loro mano al servizio di questo stile abbastanza chiaro riconoscibile evidente di Giorgetti a cui loro prestano la loro visione e la loro interpretazione nel video che vedevamo prima ovviamente non ci siamo concentrati principalmente sui prodotti del 2021 ma per chi conosce un po' la nostra collezione è sempre affascinante vedere come prodotti disegnati 20 anni fa stanno accanto a prodotti disegnati l'anno scorso o a prodotti disegnati in questo intervallo di tempo e coesistono in una maniera che è perfetta c'è un'idea precisa che deriva dalla nostra tradizione dalla nostra interpretazione della qualità del dettaglio dell'attenzione quello che a me piace più chiamare l'attenzione maniacale al dettaglio che caratterizza la nostra azienda e che noi cerchiamo di portare in tutti i nostri progetti dal prodotto ai progetti di architettura che realizziamo ma il fatto che sia uno stile così ben definito vi porta ad avere vendite sempre total living o come funziona anche il livello internazionale? questa è una caratteristica che sempre di più ci caratterizza ovviamente noi non ci offendiamo se un cliente entra e compra una poltrona o anche un vaso visto che la collezione di Giorgetti si è sviluppata nel tempo proprio con una concezione di completezza che ha portato a sviluppare anche una collezione accessoria esclusiva che è acquistabile solo nei punti vendita a Giorgetti però è effettivamente più facile trovare un cliente che ama circondarsi di una proposta completa oggi sono pronto a fare pubblicità a tutti ho visto mentre aspettavo all'inizio un video bellissimo di San Lorenzo che credo vedrete voi il video dice per fare le cose bene bisogna chiude così ora mi scuserà Sergio Buttiglieri se lo cito male ma per fare le cose bene bisogna anche essere pronti a farle su misura ecco io credo che questa sia un po' la chiave mi piacerebbe averla detta a me quella cosa quindi ve la ruberò Sergio ogni tanto però credo sia veramente il punto di attenzione per chi frequenta poi anche un certo segmento del mercato del design e sempre di più anche a livello di consumatori di mercati più moderni diciamo così moderni nel senso che più recentemente si sono avvicinati al mondo del design c'è un'attenzione alla esclusività intesa come qualcosa disegnato e realizzato per me che credo debba essere colta e interpretata quindi parli dei mercati penso soprattutto asiatici parlo ad esempio dei mercati asiatici alcuni mercati medio orientali alcuni mercati dell'est Europa quanto impatta a livello di complessità industriale questo su misura o siete già improntati a questa filosofia beh impatta sicuramente noi abbiamo un grosso vantaggio noi siamo una vera azienda industriale noi produciamo quasi completamente tutto ciò che facciamo al di là di ovviamente materiali che non fanno parte della nostra tradizione quando ci siamo resi conto che bisognava fare un passo in più abbiamo avuto la fortuna di avere degli azionisti che ci hanno comprato anche l'azienda che ci aiutava a fare il su misura in una maniera più completa evidentemente bisogna essere molto più flessibili e molto più efficienti a livello industriale Giorgetti che è una realtà molto particolare che unisce tecnologia ad artigianalità quindi macchine a controllo numerico di ultima generazione a fianco delle mani degli artigiani che lavorano in fabbrica ha per la sua natura una flessibilità più spinta rispetto ad altre aziende noi non lavoriamo mai non parliamo mai di multipli non parliamo mai di volumi per noi è molto più facile parlare di numeri singoli e piccoli perché siamo strutturati mentalmente già per farlo capito senti una domanda che non può mancare è quella sul salone sul prossimo salone io so che qui sembra che nessuno si voglia sbilanciare ma tu come come lo vedi qual è il tuo sentiment diciamo su questo speciale salone di settembre il super salone dal mio punto di vista rappresenta il compromesso migliore che si potesse immaginare di realizzare in un periodo così complesso non c'era modo di realizzare un salone come tutti noi lo conoscevamo c'era assolutamente da evitare il rischio di fare un mini salone o un salone scusatemi un salone dei poveri con piccoli stand mal gestiti non potevamo sottoporre le aziende al rischio di avere l'onere di costruire in tempi rapidi senza certezze stand grandissimi pensate che quando si costruisce il salone del mobile in fiera entrano 35 mila montatori nel giro di 15 giorni quindi pensate anche solo al discorso del distanziamento Stefano Boeri si è preso una grandissima responsabilità che è quella di trovare una soluzione artistica più che altro che risolvesse questo problema ovviamente una soluzione compromesso funziona bene quando scontenta tutti quindi credo che questo sia il compromesso migliore perché non vedo nessuno contento e quindi vuol dire che è un buon compromesso però credo anche in quello che ha detto Gilda salone super salone o salone e fuori salone sono delle forze che devono vivere insieme assolutamente ognuna ha bisogno dell'altra e si compenetrano in maniera evidente quindi sono sicuro che entrambe creeranno quel meccanismo di risveglio che in questo momento era essenziale e ci porteranno poi a un'edizione dell'aprile 2022 che speriamo tutti sia tradizionale bene bene con questa domanda chiudiamo qua grazie mille del tuo contributo sono stati puntualissimi puntualissimi grazie 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 grazie